we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi pochi minuti dopo le 15 è già disponibile il nuovo fortbyte il numero 64 ragazzi e si trova solo utilizzando la skin rocks possibile ragazzi da recuperare come vedete nella montagna degli stunt eccola qua ragazzi se qualcuno evita di ammazzarci il fortbyte qua accessibile lo prendiamo e ragazzi lo andiamo a recuperare io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollizione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo questa sera il live alle 17 ciao